Ciao a tutti, mi chiamo Paolo Biondani, faccio il giornalista, mi presento brevemente, ho lavorato vent'anni quasi al Corriere della Sera alla cronaca giudiziaria, che è il reparto rogne pesanti del giornale, c'era Tangentopoli, quindi tutte le inchieste manipulite eccetera eccetera, contemporaneamente tra il 92 e il 94 a Milano, la cosa non è stata molto osservata dall'esterno perché erano tutti sopraffatti dal flusso di notizie continuo enorme che veniva dalle inchieste di manipulite, ma ci sono stati 2000 arresti tra il 92 e il 94 per associazione mafiosa a Milano, che è stato un fenomeno unico. Poi c'è stata una stasi e poi le inchieste antimafia a Milano hanno ripreso molto, ci sono state nuove inchieste molto importanti negli ultimi 6-7 anni, a partire soprattutto dal 2010, infinito l'inchiesta sull'andrangheta. Non sono tanti giornalisti di Milano, di Roma, di zone, di territori non caratterizzati dal controllo territoriale mafioso a occuparsi di storie di mafia, ma diventa come una specie di passione questo, individuale. Dal 2007 lavoro all'Espresso e spesso lavoro insieme con altri giornalisti molto anche coraggiosi come Lirio Abate, che penso che conosciate, adesso ha dei problemi con il processo Marifia Capitale per cui c'è la scorta, poi c'è Giovanni Tizian che tra l'altro Emiliano ha una storia personale che fa particolarmente arrabbiare per quanto riguarda così la possibilità di una persona qualsiasi di poter vivere onestamente in un nostro paese insomma. Qui siamo qui a parlare di buona amministrazione per i beni per le aziende confiscate, è il tema centrale secondo me della lotta alla mafia, nel senso che la magistratura come apparato repressivo può punire la singola persona in modo più o meno adeguato, ma il problema fondamentale è che quando la mafia entra nell'attività economica e l'attività economica con la mafia funziona perché ha dei vantaggi competitivi, io penso che il problema più grosso riguarda le imprese mafiose e comunque le attività economiche, controllate dalla mafia e questo tipo di attività economica finché è sotto il controllo mafioso ha dei vantaggi competitivi, può far lavorare i dipendenti in nero, non subisce o ha pochissima contestazione dal punto di vista scioperi eccetera perché provvede a mantenere l'ordine con metodi anche intimidatori o violenti, non ha il problema dello smaltimento dei rifiuti, adesso un problema grossissimo è non ha il problema del finanziamento bancario, in un momento di stretta del credito per tutte le imprese sane, l'impresa mafiosa ha denari di provenienza illecita a costo zero che anzi hanno un problema di eccesso di denaro liquido e quindi hanno paradossamente il problema dell'abbordanza di come riciclarli, è chiaro che nel momento in cui arriva lo Stato, lo Stato deve mettere in regole i dipendenti, smaltire i rifiuti correttamente, non può più accedere al nero dell'organizzazione mafiosa creato magari con il traffico di droga o con le istruzioni, quindi l'impresa entra in crisi e questo ha mandato un messaggio terrificante al territorio colpito dall'aggressione mafiosa perché il messaggio è con la mafia si lavora e con lo Stato non si lavora, chiaro? E quindi esattamente il contrario di quello che dovrebbe succedere. Siamo abituati a vedere queste, abbiamo studiato queste problematiche spesso per le aziende tipiche, diciamo di alcuni settori tipici della penetrazione mafiosa come l'edilizia, calcestruzzi, grandi imprese di costruzione eccetera. Da qualche anno ci saremmo resi conto che c'è una prevasività delle associazioni mafiosi in molti settori dell'economia che non si pensava che fossero appetibili, ricordo a caso una delle ultime inchieste di Milano ha portato al sequestro di uno dei più grandi call center italiani, si chiamava Blue Call, dietro il quale c'era Andrangheta, tra l'altro aveva sede in Sicilia, lavorava per la regione Lombardia, sembrava completamente immune da possibili i condizionamenti mafiosi. Quindi per dire un call center, la tipica tipo di attività di servizio che si collega all'economia nuova fondata sui computer che stiamo vivendo in questi anni. La prima persona che vorrei far parlare è Giuseppe Antoci che è Presidente del Parco dei Neurodi. Anche questa è un'attività economica, anche qui sembra impossibile che un parco possa essere preda, che possa essere obiettivo, che possa essere nel minino di organizzazioni mafiose. Quindi chiederei a lui di, è una storia straordinaria, lui ha pagato duramente la sua onestà nel senso che ha subito non semplicemente intimidazioni ma gli hanno sparato contro proprio. E chiederei a lui proprio di raccontarci la sua storia. Grazie, buongiorno. Questa è una storia che dimostra che facendo semplicemente il proprio dovere e questo penso che debba un po' anche allargarsi in generale non solo agli amministratori pubblici. Perché guardate, quello che è accaduto, lo commentavamo prima dall'altro lato, è accaduto che a un certo momento il Parco dei Neurodi che era stato commissariato per dieci anni, io sono il secondo presidente in 23 anni, ci siamo resi conto che accadevano delle cose strane legate ai fondi europei. In buona sostanza le organizzazioni mafiose, le associazioni mafiose, ma questo non è un tema solamente dei nebrodi e non è un tema solamente siciliano, adesso spiegherò anche il motivo. Però parte da questa esperienza. A un certo punto un sindaco dei comuni del Parco mi racconta di alcune pressioni per fare i bandi per l'affitto dei terreni spiegandomi che dietro questa vicenda c'era comunque un discorso un po' più ampio legato alle truffe ai fondi europei. Io ho approfondito l'argomento e mi sono reso conto che, e lo abbiamo anche poi verificato, che c'era un metodo abbastanza chiaro, un metodo mafioso abbastanza chiaro che di fatto espelleva le persone per bene, gli agricoltori onesti, i ragazzi che volevano farsi un'azienda agricola magari per rimanere nel proprio territorio in Sicilia e quindi non andare a lavorare fuori a favore delle associazioni mafiose. Qual era il metodo? Il metodo era quello di costringere gli enti pubblici in generale a fare i bandi per l'affitto. Tra l'altro la costruzione relativa perché già l'ente è obbligato a cercare risorse all'esterno, quindi comunque faceva i bandi per sé. A quel punto creavano una società, oppure ce l'avevano già, mettevano dentro 4-5 nomi e soci calibro mafioso importante. Primo effetto, le persone per bene, gli agricoltori per bene, non partecipavano al bando perché avevano paura. Ovviamente se qualcuno pensava di farlo gli facevano sapere di evitare o se qualcuno si metteva in mezzo magari lo ammazzavano. Tenete conto che nel territorio, solo in quel territorio di cui parlo, in 10 anni ci sono stati 18 omicidi non risolti, di cui uno di un sindaco ucciso a fucilate in faccia, sembra, pare, sto chiedendo la riapertura del processo perché pare, aveva cominciato a fare 2 più 2 proprio sulla concessione dei terreni. Quindi il primo obiettivo era bandi monopartecipati, incrementi anche di un euro sulle somme, sull'asta e quindi aggiudicazione. A quel punto utilizzando la norma sugli appalti che prevede che per le basi d'asta sotto soglia e per soglia intendiamo tutti gli importi inferiori a 150.000 euro basta l'autocertificazione. Quindi questi signori, tra virgolette, si autocertificavano di essere a posto loro, quindi l'azienda e i soci stessi. Dunque il bando si chiudeva e qual era il business che c'era dietro? Tenete conto che faccio l'esempio di mille ettari. Mille ettari venivano pagati 36,40 euro compreso IVA ad ettaro e su quell'ettaro attraverso le truffe alla GEA, all'Europa, riuscivano ad incassare da un minimo di 556 euro per ettaro a un massimo di 1.300. Per fare due conti, mille ettari che sono nulla, in confronto a migliaia di ettari che ci sono in Sicilia ma anche altrove, si pagavano 36.400 euro l'anno e se ne incassavano anche un milione. Tenete conto che i contratti molto spesso erano anche di durata 7, 8, 9 anni. Dunque un contratto valeva circa 8 milioni di euro. Moltiplicate questi mille ettari per tutti i migliaia di ettari che ci sono in Sicilia e non solo in Sicilia. Allora, quando noi abbiamo capito questo meccanismo, io ho pensato che l'unico modo per fermare questo affare era quello di togliere questa soglia. Quindi col prefetto di Messina abbiamo creato questo protocollo che oggi è esteso a tutta la Sicilia, che è stato firmato a tutti i prefetti della Sicilia, dove abbiamo detto che da oggi in poi non c'è più soglia, anche per importi di 5.000 euro ci vuole il certificato antimafia, anche un euro. Cosa abbiamo fatto però? Per capire se questo protocollo diventava veramente dirompente per come è diventato, insieme alla distretto antimafia di Caltanissetta io utilizzo gli unici 400 ettari del parco, perché poi i terreni all'interno del parco sono anche di altri enti pubblici, ma la competenza per diretta era su questi 400 ettari, quindi faccio un bando e lo faccio scadere dieci giorni prima della firma del protocollo col prefetto di Messina. Metodo, costituiscono società, mettono dentro quattro personaggi, io dico agli uffici aggiudicati in maniera provvisoria. Faccio la firma, il protocollo col prefetto di Messina, con tutti i sindaci e il presidente della regione e i due assessorati di competenza agricoltura e territorio, l'indomani della firma scrivo al prefetto e dico, ai sensi e per gli effetti del protocollo mi controlla questi nomi. Bene, il migliore, 416 bis associazioni di stampo mafioso. Quindi io revoco l'appalto, la gara, e li denuncio alla procura per false attestazioni. Ovviamente questo di fatto ha acclarato che il protocollo era devastante. Ma non ci siamo fermati a questo. Abbiamo cominciato a capire chi in quel momento aveva i terreni nelle mani. Vi dico solo che la prima istruttoria di 25 aziende ha provocato 23 interdittive antimafia con revoca immediata dei terreni e per fare nome, visto che io sono abituato a farlo, parliamo in Sicilia, questo affare ce l'avevano nelle mani il fratello di Rina, Santa Paola, la Stidda, insomma non c'è un posto in Sicilia perché questo affare in Sicilia è valso nella programmazione precedente 5 miliardi di euro e in Italia è valso 50 miliardi. Perché dico in Italia? perché quello che sta avvenendo fuori è che questo tema siciliano, non più tema dei nebrodi ma tema siciliano, è un tema calabrese, è un tema campano, è un tema piemontese. Allora la verità è che attorno ai fondi europei, parlo per la Sicilia, cosa nostra finanziava le famiglie dei carcerati, finanziava il mercato della droga, finanziava le operazioni immobiliari da 12 anni e nessuno aveva mai messo le mani su questo argomento. Ecco perché Antoci diventa scomodo. Non solo, ma c'è una particolarità immediatamente prima alla vicenda dell'agguato. Due fatti. Uno, e lì gli avvocati delle famiglie mafiose hanno giocato un po' sporco perché dicevano, beh ma il protocollo di Antoci col prefetto è un atto pattizio, quindi al Tar vinceremo. Vanno al Tar. Il Tar non solo non gli dà la sospensiva, ma gli dà un giudizio già di merito pesantissimo dove parla di infiltrazioni mafiose, di condizionamento delle aziende. Quindi loro subiscono questo contraccolpo, tra l'altro confermato dal CGA a giugno, ma già avevano fatto l'agguato, ma nel contempo mi chiamano dalla Regione Calabria e mi dicono Presidente noi stiamo facendo la legge sulla vendita dei terreni demaniali, come possiamo fare a mutuare il protocollo per evitare che vadano all'andrangata? Io ho ricevuto quella telefonata come decine nella giornata alla quale non avevo neanche dato peso, per cui ho detto vabbè fate questo, fate quest'altro, secondo me se fate questo li mettete fuori gioco. Risultato dopo due giorni all'Assemblea regionale della Calabria viene bloccata la norma sulla vendita dei terreni demaniali motivandola per mutuare il lavoro svolto dal Presidente Antoci contro le istituzioni mafiose e quindi vediamo di attuare il protocollo. I giornali calabresi, l'indomani, titoli a tutto spiano. Cosa voglio dire? Che appare chiaro che una cosa così forte e dirompente che mette le mani in tasca a Cosa Nostra su un affare che vale molto di più del mercato della droga perché parliamo del 2000% rispetto all'investimento, quindi una cosa folle. Anche l'andranca dice beh adesso arriva qua questo protocollo, quindi adesso ci sono le indagini, due procuratori di Reggio stanno verificando, spero che a breve ci possa essere qualcuno che va a passare il resto della sua vita in un posto più fresco di quello esterno, però voglio dire al di là di questo, allora il tema è uno, quando alle associazioni mafiosi, alle associazioni criminali in genere si mettono le mani in tasca in maniera pesante e soprattutto quando si passa dall'antimafia predicata che ci vuole, i convegni, i libri, le scuole, ci vuole, però bisogna passare spesso e continuamente all'antimafia praticata per poter andare poi nelle scuole dai giovani a raccontare i risultati della lotta alla mafia e quindi io penso che incontri anche come questo ci aiutano anche a raccontare i risultati che facciamo quando lottiamo questa gente, perché il messaggio secondo me che deve passare sono due messaggi che io voglio qui condividere con voi. Uno che la Sicilia ma questa in generale non ha bisogno né di simboli né di eroi né di gente, quando uno fa il proprio dovere e Giuseppe Antoci ha fatto il proprio dovere e continua a farlo, non fa nulla di eccezionale, quindi noi dobbiamo trasferire questo affinché voglio dire ognuno si senta anche come dire più spronato a fare il proprio dovere, perché se passa il messaggio che per fare il proprio dovere la mafia ti ammazza, perdi la libertà, tu e la tua famiglia ognuno dice beh forse qua è meglio che stiamo attenti a fare il nostro vero, no, ognuno un pezzettino di responsabilità, ce la ritagliamo tutti e quando ce la ritagliamo tutti, come dire, diminuiscono anche le sovraesposizioni e questo è il primo messaggio che io ritengo sia fondamentale. L'altro riguarda proprio la cultura della legalità e attraverso raccontare come magari si prendono dei fondi dedicati ai giovani, dedicati alle attività e allo sviluppo del territorio e si tolgono questi fondi alla mafia, alle associazioni mafiose e invece si trasferiscono al futuro dei nostri figli, quello è un altro messaggio che secondo me noi dobbiamo sempre trasferire perché, e concludo, perché guardate, io lo raccontavo prima, sono stato a una trasmissione televisione un altro giorno e ho sentito un'intervista di un prete che diceva beh quando lo Stato non c'è poi la gente si rivolge al boss del territorio che gli dà subito le risposte e quindi diventa credibile. Allora visto che attorno a questo problema che mi riguarda gira anche la macellazione grandestina e quindi voglio dire portare nei piatti della gente la carne malata, allora io ho detto e questo è il secondo messaggio che dobbiamo passare che questa è gentaglia, che questi non sono uomini d'onore perché un uomo d'onore non inteso come mafioso ma come uomo per i propri affari non avvelena i nostri figli questa è gentaglia e il messaggio che dobbiamo far passare è che non sono gente credibile sono gente così vigliacca che davanti ai loro affari se ne fregano del futuro della gente e anche della salute. Ho parlato prima della, beh ringrazio intanto il dottor Antoci perché insomma tra l'altro come sapete, come dovreste sapere tutti c'è stato un fatto bruttissimo che l'è riguardato mi pare di ricordare che mentre tornava nella sede del parco giusto è stato insomma avvicinato da una macchina, gli hanno sparato e si è salvato perché c'era la civetta dietro non lo sapeva nemmeno giusto? Noi stavamo tornando da un commegno dove tra l'altro ero andato a incontrare alcuni giovani per dire che eravamo riusciti ad ottenere un finanziamento importante per una struttura che darà posti di lavoro in un territorio difficile e quindi era stata una bella serata. Noi scendevamo, era l'una di notte, hanno sbarrato le due carreggiata con dei massi, io ho sentito solamente i ragazzi della scorta che dicevano che ero dietro che mi ero addormentato cosa sono questi massi? Sono cominciate ad arrivare fucilate contro la macchina, loro hanno tentato di colpire la macchina alle ruote, il capo scorta era riuscito, l'autista, un po' a fare già marce indietro quindi non sono riuscito, hanno preso lo sportello, ma l'obiettivo era quello di continuare a sparare per farci scendere o in ultima ipotesi hanno ritrovato quattro bottiglie Molotov perché volevano incendiare la macchina per costringerci o a scendere o a morire bruciati. C'era un'altra macchina della polizia che era venuta a questo convegno e che si era fermata ma non era di scorta a me, io grazie a Dio avevo la macchina blindata che è arrivata, è partita dopo dieci minuti ed è arrivata proprio mentre trovando questa gente con i fucili imbracciati, quindi si è innescato un conflitto a fuoco e quindi grazie a Dio mi hanno riportato a casa. Io vorrei dire una cosa, guardate che le nostre forze è l'ordine, cioè io oltre alla polizia di Stato devo la mia vita, ma guardate che questa è gente preparata, intelligente, che fa questo mestiere perché ha fatto un giuramento e perché ci crede e io penso che dobbiamo essere riconoscenti veramente a queste persone che rischiano la vita insieme a persone che hanno fatto una scelta di portare sui territori legalità ma anche sviluppo. Lucio Guarino è direttore del consorzio sviluppo e legalità che si è particolarmente distinto nell'aiuto alla sopravvivenza, al fatto di far restare sul mercato appunto soprattutto aziende confiscate o sequestrate o confiscate. Vi faccio un esempio in modo che sia chiaro di cosa stiamo parlando. Vado in Sicilia a fare un pezzo 4-5 anni fa proprio sui beni confiscati, nato dal Mie Deine, in un momento in cui non ne parlava nessuno. Quindi facciamo la solita banca dati con l'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati, scopriamo che l'Agenzia ha dati vecchi e allora cerchiamo di integrarle, eccetera, eccetera, grazie anche per Paolo Romani, eccetera. Chiedo alcuni casi esemplari. Incontro uno dei dirigenti del consorzio legalità e sviluppo, non mi ricordo il nome ma l'ho intervistato poi, e mi spiega che c'è il problema di cui parlavamo prima, cioè l'impresa che torna legale perde i vantaggi competitivi, chiamiamoli, del fatto di poter vivere in un ambiente criminale e di poter usare metodi criminali. Ma c'è un problema anche più sottile, mi dice, e mi fa l'esempio di una torrefazione che era di proprietà dei fratelli Graviano, che sono boss della commissione, cioè proprio boss di capimandamento, e sono tra l'altro condannati con sentenza definitiva come mandanti dell'omicidio di Lumpugliesi, per intenderci, sono proprio stragisti, adesso la nuova indagine su Via D'Amelio addirittura salta fuori che tutta l'operazione Scarantino serviva a distogliere l'attenzione dalla loro cosca, che furono loro, proprio organizzare, i Graviano personalmente organizzare la strage di Via D'Amelio, questo in base a quanto dico c'è finalmente il pentito vero dell'inchiesta su Via D'Amelio. c'era questa torrefazione di caffè, questa torrefazione di caffè lavorava per la regione Sicilia, l'aeroporto di Palermo, una serie di enti pubblici, una grande banca, una grande banca con quindi dei figliani in tutta la Sicilia e finché era mafiosa dei Graviano, con prestanome, lavorava alla grande, cioè veniva caffè dappertutto. Viene sequestrata e confiscata, viene data in gestione a un ottimo avvocato, il quale disperato si vede tutte le banche, tutte le banche che gli chiedono il rientro dei crediti da un giorno all'altro e si vede tutti gli enti pubblici che quando c'era la mafia non facevano niente, che gli chiedono, che brigano per fare la revoca dell'appalto. Quindi non stiamo parlando di impresa che goge dei vantaggi della competitività criminale, stiamo parlando di un'impresa mafiosa che godeva vantaggi in una situazione di apparente legalità. Quindi è un problema particolarmente complicato questo della sopravvivenza, chiamiamola, dell'azienda mafiosa. Io chiederei appunto un esame di questo problema. Sì, grazie. Prima di rispondere vorrei riallacciarmi a quanto ha detto Giuseppe Antoci. Come lui, sono siciliano, al di là delle vicende che lo hanno interessato personalmente, dalla storia che ha raccontato Giuseppe Antoci possiamo trarre, come possiamo dire, due insegnamenti, che di fatto poi sono constatazioni amare di quella che è la realtà siciliana, ma penso che è un problema, che è paradigmatica di una realtà, che ormai a livello nazionale abbiamo un po' dovunque. La prima, basta spostare la pietra di poco per scovare verminai. Nel momento in cui loro pubblicano un bando e verificano chi c'è dietro l'istanza, hanno semplicemente scostato di un poco una pietra. La seconda indicazione è che nel nostro ordinamento giuridico in Italia gli strumenti di contrasto per contrastare e per prevenire il crimine organizzato ci sono. Abbiamo una legislazione all'avanguardia a livello nazionale e a livello mondiale, scusate, perché attraverso lo strumento delle informative prefettizie esistenti nel nostro ordinamento da lontano 1998, loro hanno scovato il verminaio. E quando parlo di verminaio faccio il riferimento non soltanto alla presenza del crimine organizzato, in particolare le cosche siciliane, perché assai spesso in questo momento storico attorno al tavolo per la spartizione e la gestione delle attività illecite non c'è soltanto l'organizzazione criminale cosa nostra. E proprio perché la nostra legislazione antimafia è una legislazione di avanguardia e anche avanguardia, ed è purtroppo ancora oggi, a distanza di vent'anni, avanguardia, sono le avanguardie che non diventano mai storie di ordinare, la legislazione in materia di gestione di beni confiscati al crimine organizzato. Voi sapete che questo tipo di legislazione viene introdotta grazie, più che intuizione, grazie all'esperienza di Piola Torre, parlamentare della Repubblica, sindacalista corleonese, che perde la vita per quella legge, ed è una legge datata 1982. Una legge che sostanzialmente introduce non soltanto il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, il cosiddetto 416 bis, prima non si puniva l'associazione a delinquere in quanto tale, di stampo mafioso, ma soprattutto introduce la normativa sulla gestione dei beni confiscati, perché Piola Torre sa che soprattutto applicata all'organizzazione criminale Cosa Nostra, per il siciliano investire i proventi illeciti anche in terreni, in aziende, in fabbricati, anche di modesto importo nel territorio, aumenta a livello esponenziale il loro potere di controllo del territorio. La mafia deve fare vedere come e quanto grande è il suo potere. Proprio per questo la tematica sottopostami è assai delicata, perché se si perde su quel fronte si produce un effetto devastante, perché si finirebbe per avvalorare quelle opinioni comuni comuni che esistono ancora, come ci racconta Giuseppe, motivo l'affermazione di quel parroco, che quando quei beni, la mafia, le organizzazioni criminali producevano lavoro senza valutare ovviamente che le organizzazioni criminali per definizione sfruttano la forza lavoro per operare, e qua ci riallanciamo ad una delle criticità sulla gestione delle aziende confiscate. Quando quel bene passa nelle mani dello Stato, lo Stato non è capace di creare occasioni di lavoro. Quindi la delicatezza derivante dalla effettività di quella legislazione è assoluta, è assoluta. Sul fronte beni confiscati bisogna distinguere gli immobili dalle aziende, perché sul fronte degli immobili possiamo dire che ormai in Italia ci sono tante realtà che applicando strumenti messi a disposizione dal legislatore riescono a ridare dignità al proprio territorio attraverso l'utilizzo di quei terreni confiscati. A mio modestissimo parere, e sostanzialmente dal 1999 che mi occupo di questa questione del riuso dei beni confiscati nel Corleonese, dei beni immobili confiscati, posso dire da tecnico, perché io sono un segretario comunale, che quella normativa è una normativa assolutamente efficace. Quella normativa sotto il profilo dei beni immobili è normale che occorre comunque adeguarla ai tempi, in alcune realtà, ripeto, è ancora avanguardia, ancora quella normativa non è applicata, quando parlo di mancata applicazione della normativa faccio riferimento alle pubbliche amministrazioni, perché quella normativa la devono applicare le pubbliche amministrazioni innanzitutto i comuni, innanzitutto i sindaci. Diverso giudizio sulla questione delle aziende confiscate, non me ne sono occupato direttamente, ma essendo la materia unica, alla fine operando sul fronte dei beni confiscati, devi analizzarla, puoi anche analizzare gli effetti prodotti ed uno dei primi problemi che, ripeto, emergono chiaramente è quello che tu hai detto. Il limite di quella normativa è il seguente, l'organizzazione criminale nel momento in cui gestisce un'azienda, un'azienda, un bene aziendale, opera ovviamente totalmente fuori dalle regole del mercato, mancato pagamento dei contributi, i fornitori sostanzialmente applicano, diciamo, prezzi di favore, sostanzialmente i costi della produzione sono vicini allo zero, il sistema creditizio ti apre le porte. Sono tre piccoli esempi. Nel momento in cui quel bene passa allo Stato, il sistema creditizio ti chiude le porte, ti sbarra le porte. L'amministratore giudiziario, per conto dell'autorità giudiziaria, soprattutto nella fase del sequestro, deve confrontarsi, deve rimettere giustamente e ovviamente le regole di legalità all'interno della gestione, quindi deve mettere in regola gli operai. E già ci sono le prime organizzazioni che alzano la mano, non si erano mai lamentati in passato, organizzazioni sindacali, ah guardate se c'è questo operario deve essere messo in regola, quest'altro pure, è giusto. I fornitori cominciano ad applicarti i prezzi di mercato. Uno degli esempi sintomatici e paradigmatici è la vicenda della Calcistruzzi e Ricina, dove un buon prefetto ebbe, per superare queste criticità, con uno sforzo immane, perché sono dati cogenti, a mio modestissimo parere, difficilmente superabili, ossia ci vuole, per applicarlo all'intero sistema, uno sforzo immane di tutte le articolazioni della Repubblica per garantire la sopravvivenza di queste aziende. Mi ricordo che un prefetto della Repubblica, il prefetto Finazzo, sulla Calcistruzzi, cercò di imporre, fra virgolette imporre nel senso di consigliare vivamente, alle amministrazioni locali che facevano appalti per lavori pubblici, qualora la Calcistruzzi Ricina, passata nelle mani dello Stato, avesse praticato prezzi più favorevoli e praticava prezzi più favorevoli, di inserire nei bandi di gara, di assegnare, non dico una priorità perché non era una priorità, ma di sentire se la Calcistruzzi e Ricina era disponibile a fornire appunto il Calcistruzzo alle imprese che avrebbe potuto eseguire lavori pubblici. Mi ricordo, nel tempo che lavorava a Castellammare del Golfo, che era sciolto per mafia, è una clausola che viola i principi della libera concorrenza. Cioè, si innescò un meccanismo di rifiuto, di rigetto della soluzione ideata da quel prefetto della Repubblica, ma era, come possiamo dire, una soluzione, fra virgolette, estemporanea che cercava di eliminare una delle tante criticità che oggi chi gestisce aziende confiscate, per conto ovviamente dello Stato, è costretto a confrontarsi. Ripeto, per un semplice principio, perché quando era gestita dalla mafia, operava quell'azienda fuori dalle regole del mercato, con totale abbattimento dei costi della produzione. Quindi, essendo la tematica, ripeto, assai delicata, assai delicata, è, come possiamo dire, comprensibile che il legislatore, quando vara quella legge, perché sempre si fa riferimento alla legge 109 del 96, voluta dall'Associazione Libera, e che aveva come scopo ultimo quello di tutelare il posto di lavoro di coloro i quali operavano nell'azienda confiscata per non fargli perdere il posto di lavoro, vi devo dire che dall'applicazione pratica sotto questo profilo delle aziende confiscate, come possiamo dire, i risultati sperati non si sono ottenuti. Ripeto sempre l'esempio della calcestruzione ricina, uno degli esempi più forti di cooperative, di lavoratori dell'azienda confiscata che si sono messi assieme per poter gestire a regime, a regime, perché poi il problema è la gestione a regime, non soltanto durante la fase del sequestro e della confisca di quell'azienda, se vogliamo tutelare i posti di lavoro. A me, e mi auguro di essere smentito, sotto questo profilo, nonostante gli enormi sforzi da parte dei tribunali, quindi della magistratura, del mondo dell'associazionismo, dalle organizzazioni sindacali, degli enti locali nei limiti delle proprie competenze, i risultati sono ancora modesti. Però, non voglio concludere il mio intervento con questo messaggio, il legislatore è nelle condizioni, perché lo ha sempre fatto, di modificare, di innovare, anche con delle visioni diverse, assai difficile comunque, diciamo, da individuare, però quello che voglio dire è che il segmento relativo alla gestione dei beni immobili confiscati, che è quello di trincea sostanzialmente, perché è quello che coinvolge direttamente le municipalità, il mondo dell'associazionismo, ad oggi quel meccanismo funziona e funziona bene. Bisogna semplicemente, in ritorno allo strumento delle informazioni prefettizie, occorre semplicemente che i funzionari della Repubblica, ossia coloro i quali sono chiamati ad applicare le leggi, le applichino quelle leggi e le applichino, come possiamo dire, non perdendo di vista l'obiettivo che rientra nei doveri del pubblico dipendente, non soltanto del magistrato, non soltanto del rappresentante delle forze dell'ordine, ma soprattutto rientra nei doveri del dipendente pubblico, del dipendente delle amministrazioni locali come deputati a governare il territorio per carta costituzionale, solo del governo di prossimità. Compito è della politica e dei funzionari pubblici, delle amministrazioni locali e anche quello di contrastare il crimine organizzato, applicando gli strumenti che il legislatore gli mette a disposizione. Grazie. Le conseguenze del carattere mafioso di un'impresa sono poi devastanti anche al di là dello stretto ambito tipico dei deliti di mafia. Mi viene in mente un'inchiesta di fine anni 90, poi trasformata in sentenza definitiva di condanna, in cui c'era una grande impresa del Nord, il gruppo Ferruzzi Gardini, che era sceso a patti con l'organizzazione mafiosa e praticamente pagava sistematicamente il pizzo e mi pare che li abbiano condannati proprio per concorso esterno, i tre dei massimi dirigenti di questa impresa. Quindi stiamo parlando di una delle più grandi imprese italiane per intenderci e il modo per pagare il pizzo era risparmiare sulla qualità del cemento. Quindi per pagare il pizzo tu facevi un cemento di qualità più scadente, risparmiavi sui costi e quel costo diventava la provvista per pagare la tangente, per pagare il pizzo alla mafia. Poi a distanza di alcuni anni cominciamo a vedere i viadotti siciliani che cadono o i viadotti di lecco che cadono. Non c'è ancora un chiaro rapporto di causa-effetto tra delle cose, poi immagino perizie tecniche sarà un macello, però indubbiamente c'è il prima e c'è il dopo e vedi che la qualità del prodotto proprio che viene offerto sul mercato è una qualità pericolosa. Quindi c'è anche un problema di questo tipo. Alla professoressa Stefania Pellegrini chiederei un quadro più generale, cioè qui siamo in Emilia, c'è stata per anni l'illusione che il problema dell'organizzazione memfiosa riguardasse solo alcune regioni o che in altre regioni si diceva portano solo i soldi, quindi come dire benvenuti perché portano i soldi, sono come degli investitori. Lei ha diretto delle ricerche di ottimo livello sulla, da una parte, la diffusione delle organizzazioni mafiose, in particolare in Emilia. Adesso finalmente c'è anche una grande inchiesta di cui dovrebbe esserci il dibattimento in corso, mi pare. Dall'altra parte mi piacerebbe anche che parlasse del problema che avete affrontato insieme anche con il viso pubblico, sulla criticità nella gestione delle aziende confiscate. Bene, grazie. Sì, forse è la prima volta, devo intervenire come ricercatrice e non come docente. Perché il solito dice, ma il corso di mafia e antimafia, ma il master, e io porto un po' l'esperienza della mia come docente. E devo sottolineare, perché comunque docente rimango nel 50% della mia identità è quello. L'esperienza di Peppa Antioci è l'esperienza che io prendo come riferimento all'interno dei miei corsi universitari, non parlo del master, cioè quello dell'antieroismo dell'antimafia, che è fondamentale. Lo diceva Peppa, lo diceva Lucio, prima è fondamentale, cioè nel senso di non pensare che l'antimafia sia il retaggio di un soggetto comunque che ha un ruolo istituzionale, che esponendosi diventa un martiro, un eroe. Loro lo fanno e lo fanno nella loro quotidianità, nell'esercizio delle loro funzioni, fanno il loro dovero e loro sentono di fare il loro dovere. Poi noi li vediamo come eroi. Però in realtà è proprio questo il messaggio che va trasmesso ai giovani, cioè nel senso dell'antieroismo. Noi abbiamo avuto qui, adesso non l'ho vista, non so se è già stata spostata la Meari di Giancarlo Siani, Giancarlo Siani è anche lui un simbolo dell'antieroismo del giornalismo, un ragazzo di 26 anni che faceva semplicemente il suo lavoro e lo faceva in modo serio, faceva il giornalista il giornalista, nel senso questo faceva, non faceva il giornalista eroe. E questo è un elemento importante e fondamentale. Le ricerche, gli studi servono per noi ricercatori per dare un rimando e per far crescere i nostri studenti, che è la nuova generazione, che sono la generazione che più assorbe, che è ancora estranea a certe dinamiche, che ha ancora la passione di voler cambiare il mondo e quindi a loro va trasmesso tutto questo, anche questi esempi di quotidianità e di antieroismo. Qui serve a questo la ricerca. La ricerca serve anche per capire come le normative funzionano, se funzionano, perché non funzionano e un rimando di tutte queste problematiche a livello normativo. È questo che serve. È ovvio che io sono contraria agli interventi sporadici di convegni fatti una volta all'anno, ma un percorso strutturato permette anche di elaborare modifiche, che possono essere modifiche migliorative della normativa in corso, che sicuramente è all'avanguardia a livello mondiale e internazionale. Che va migliorata, nel senso non possiamo dire come siamo bravi, siamo i primi, perché nell'applicazione quotidiana ci rendiamo conto che ci sono molte problematicità. la questione di cui parlava Pape Antioci è fondamentale, anche la questione dell'abuso e della truffa di fondi comunitari. È questo elemento fondamentale. Riferendomi proprio al discorso normativo, io so per certo, perché ero presente, che il consigliere Balsamo alla riforma che adesso è ferma in Senato, la riforma del codice antimafia, aveva proposto un emendamento inserendo proprio l'estensione delle misure di prevenzione, cioè il sequestro, a reati di truffa dei fondi comunitari. Che ritengo sia un elemento rafforzativo di questo strumento che già viene esteso ai reati contro la pubblica amministrazione. Non è poco che viene esteso anche ad esempio agli evasori, agli evasori fiscali. Insomma, uno strumento che si sta dimostrando estremamente efficace. È difficile, sempre per quanto riguarda, far continuare l'attività delle aziende confiscate e farle o perlomeno ristrutturare perché possano partire, perché molto spesso queste aziende non hanno la certificazione antimafia, sembra una follia, ma a volte le aziende sequestrate non possono partecipare agli appalti perché non hanno la certificazione antimafia. Allora se c'è il, se ne parlava poi ieri al Master che dirigo, se c'è il Presidente del Tribunale delle misure di prevenzione che dice, no, dice il prefetto, guardi che stiamo parlando di un'azienda che sta, cioè che è un'azienda che sta vivendo anche in fase di sequestro sotto il monitoraggio dello Stato, forse è il caso di riconoscere un certificato o una certificazione antimafia per poter permettere la partecipazione agli appalti, altrimenti vengono escluse anche dagli appalti pubblici, questo è un elemento che a volte si sottovaluta ma è veramente una follia pura. Entro nella veste del ricercatore, questa ricerca che abbiamo realizzato con una partnership molto interessante perché già proprio la natura dei partecipanti a questa ricerca hanno creato i presupposti per la premessa e per le conclusioni. Una partnership molto estesa, l'Arci, Viso Pubblico, CGL, l'Università di Milano, io che appunto come Università di Bologna e personalmente come ricercatrice. Abbiamo voluto capire innanzitutto la situazione delle aziende confiscate in Italia, confiscate, anche se il problema va anticipato e dobbiamo anche con i beni ma anche con le aziende intervenire assolutamente sul sequestro e non possiamo permetterci di arrivare alla confisca, neanche alla confisca di primo grado, dobbiamo intervenire immediatamente. Però noi abbiamo dovuto comunque basarci su un dato che era un dato fermo perché altrimenti rischiavamo di non avere un dato realmente attendibile. Quindi abbiamo pensato di dare una dimensione quantitativa del fenomeno però accostandola ad un'analisi qualitativa. quindi quantitativa capire una mappatura delle aziende confiscate in Italia. Ma non a livello numerico perché giustamente come dicevi noi ovviamente abbiamo fatto riferimento ai dati dell'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati come gruppo di ricerca europea ci abbiamo messo sei mesi ad avere i dati. Sei mesi. Questi dati che sono arrivati sia a me che a Luciano Silvestri e erano dei dati che ci abbiamo messo veramente mesi da elaborare. Ad elaborare, a scremare, a aggregare e per avere un dato puro su queste aziende. È ovvio che nel momento in cui abbiamo avuto questo database gigantesco abbiamo capito che non era tanto la quantificazione del dato ma era anche l'analisi qualitativa. Quindi noi non possiamo quantificare veramente e realmente quali sono le aziende confiscate. Per quale motivo? Perché noi abbiamo l'Agenzia che monitora, dovrebbe monitorare o comunque ha i dati che sono dati interni che non pubblica, ma lì ha i dati, sulle aziende che sono confiscate attraverso lo strumento del sequestro di prevenzione. Ma tutti i sequestri penali che sono il 50% noi non li abbiamo perché i tribunali penali non trasmettono questi dati ed è forse più del 50%. Quindi quantitativamente è importante dirlo. È praticamente impossibile avere una quantificazione, ma a livello qualitativo sì. Cioè capire dove investe la criminalità organizzata. È il discorso che facevi prima tu. Cioè mettendo insieme tutti questi dati a livello proprio di campionatura, perché bene non male noi abbiamo dati ufficiali e li abbiamo elaborati, ci sono ancora dei settori privilegiati? O ci sono dei settori che in realtà stanno diventando dei settori che vengono aggrediti dalla criminalità organizzata? E come si sposta la criminalità organizzata? Cioè nel momento in cui vediamo le aziende verso il nord, in quali settori investe la mafia nel nord. Ed è veramente impressionante, potrebbe sembrare banale, ma un conto, quindi direi elaborare questi pensieri, un conto vedere il dato, io sono comunque una ricercatrice, ma sono pensata empirica, quindi mi sono sempre preoccupata di dati. Cioè io con i dati alla mano faccio poi delle elaborazioni, applico delle teorie e dei dati e poi arrivo a delle conclusioni, non sono una teorica pura. Ed è impressionante vedere come nelle diversi territori, nelle diverse zone, la tipologia di investimento della mafia è esattamente lo specchio dell'economia. Quindi vuol dire che la mafia va a colpire l'economia dove l'economia è forte di quelle regioni, di quei contesti. Ed è incredibile vedere come al nord in realtà sono imprese che fanno riferimento al mondo del terziario, che fanno riferimento anche all'attività di servizio alle imprese. Tutto quel mondo dei libri professionisti poi in realtà, servizi alle imprese, come la sanità, come tutti i servizi informatici per le imprese o quant'altro. E qui è incredibile vedere, verificare il fatto che la criminalità organizzata ha avuto la capacità di intervenire sui settori forti mantenendo dei monopoli perché noi vediamo in Calabria, in Sicilia ovviamente il movimento terra, i classici, comunque anche il commercio e anche tutto il mondo dell'edilizia. Ed è interessante, cioè questo è l'elemento, secondo me è l'elemento a livello quantitativo, cioè di mappatura sul quale bisognerebbe lavorare, anche sulla tipologia di azienda. Cioè è possibile che noi abbiamo nella stragrande maggioranza, comunque è stato emerso, che la mafia quando deve costituire comunque un'azienda crea un'SRL, perché sono comunque le tipologie aziendali che si costituiscono con poco e sono più agili nella Costituzione e anche nel mantenimento. Non c'è la responsabilità del socio, dell'azienda, la responsabilità aziendale, quella personale è separata e quindi la stragrande maggioranza, però noi se arriviamo al nord abbiamo delle SPA, abbiamo delle quote aziendali di SPA, abbiamo delle cooperative e quindi anche questo è tutto uno stravolgimento, è tutto un cambiamento. Perché questo motivo? Perché in realtà nel nord la mafia non è che costituisce nuove aziende, ma si va a inserire nelle altre aziende, quando trova degli imprenditori che naturalmente sono disposti a condividere la propria attività con la criminalità organizzata. E il discorso dell'usura, che in realtà è un'usura che sappiamo tutti, che non viene più, non ha il corrispettivo con gli interessi ad altissimo livello, anzi interessi che chiede la criminalità organizzata sono competitivi col sistema ordinario. Cosa chiede? Chiede quote aziendali. In cambio quote aziendali e attraverso quelli erode sempre di più l'azienda e l'azienda nel giro di poco naturalmente viene completamente giusto dal criminalità organizzata. Un altro percorso che si sta facendo a livello giudiziario è che adesso gli imprenditori, nel momento in cui si è capito che gli imprenditori, che i libri professionisti, la zona grigia si chiamava, veniva intesa come qualcosa di esterno che poteva comunque aiutare appunto secondo i principi del concorso esterno a sostenere e incrementare la criminalità organizzata, allora si interveniva con il concorso esterno. Ora si è capito che questo sistema che è esterno allo zocco lo duro della mafia è sistematico, cioè nel senso che è elemento fondante la criminalità organizzata, come si dice sempre andando alla chiesa, la forza della mafia sta lì fuori della mafia e adesso iniziano ad arrivare incriminazioni per 416 bis per questi imprenditori, per questi professionisti perché sono fondanti tutti gli affari. Parte quantitativa che ho gestito io e coordinato io appunto con l'aiuto della CGL naturalmente che per me è stata fondamentale anche per uno scambio di opinioni anche sull'analisi dei dati dei settori. Abbiamo fatto anche un questionario a cui sono stati sottoposti tutti i presidenti delle misure di sezione di tutti i tribunali più un campionamento di amministratori giudiziari per comprendere e capire quali sono le problematicità ma anche quali sono le buone pratiche. Perché in realtà è vero che ci sono tanti problemi, che la norma crea molti problemi, però lo sappiamo tutti, che noi non possiamo limitarci a un'applicazione rigida della norma perché altrimenti rimaniamo bloccati, ma in tutte le norme. L'applicazione deve essere un'applicazione oculata, deve essere un'applicazione intelligente e le buone pratiche possono anche far superare queste problematiche che tutti i giorni emergono nella gestione anche delle stesse aziende. E quindi questo questionario è stato uno strumento molto interessante, elaborato nel quale sono emessi dei punti centrali che sono stati confermati dalla parte qualitativa. Dieci aziende, considerate che tutti questi dati sono stati trasmessi all'Union Camere, abbiamo avuto tutti i dati che riguardavano un po' i bilanci delle aziende, su questo grande numero sono stati individuati dieci casi studio, sul quale sono state fatte delle indagini sul campo, da parte dell'Università di Milano coordinati dall'Ando della Chiesa, per capire quali sono gli elementi positivi e negativi di buon funzionamento, di successo o di fallacia delle gestioni. I dati sono reali, nel senso che una percentuale altissima delle aziende chiudono, però togliamo le aziende che sono mafiose e che quindi vanno chiuse. Le aziende mafiose che in realtà si presentano come tali, che non hanno quella determinata connotazione che ci dà il Codice Civile e vanno comunque chiuse, perché sono uno strumento della criminalità organizzata e vanno chiuse. Abbiamo tutte le aziende che sono aziende, che sono cartiere, qui in Emilia Romagna tantissime, che vengono costituite appositamente per le frodi, per le frodi carosello, che in realtà sulla carta sono aziende, ma in realtà non c'è nulla e quindi quelle vanno chiuse e aggiungiamo quest'altra percentuale. Ci sono però altre aziende che in realtà hanno questo vizio di origine del finanziamento di base della criminalità organizzata, ma che poi sono entrate nel mercato e è lì la sfida. E hanno comunque un sistema che si è legalizzato, che è comunque un sistema di mercato che non è completamente viziato dal mercato che descriveva Lucio. Allora lì cosa dobbiamo fare? Dobbiamo abbandonare loro stesse. Lì cosa dobbiamo fare? È vero che molto spesso i dipendenti di aziende confiscate sono comunque soggetti che sono stati assunti, assunti, che lavorano in quella perché non è che c'è l'assunzione, comunque c'è, non c'è, che lavorano in quell'azienda solo perché ci sono collegamenti praticamente di clientilismo e quant'altro. Però è gente che vive in quel contesto che non può essere abbandonata loro stessa, non è possibile, non è pensabile. Allora qual è l'elemento, tutti gli elementi di fallacia li sappiamo, li hai elencati anche tu benissimo. Qual è l'elemento che fa funzionare le aziende? Allora noi l'abbiamo individuato sia nella fase quantitativa, l'abbiamo confermato nella fase quantitativa, è un concetto che è emerso, mi sembra che sia il concetto vero per Paolo, che è quello al quale siamo tutti giunti, cioè quello di imprenditore collettivo, che secondo me, come dire, lo ha coniato ovviamente il nostro faro che è stato comunque nando dalla chiesa ed è quello. Cosa vuol dire imprenditore collettivo? Vuol dire che è un'azienda che deve rientrare nel mercato, non ce la fa da sola, non ce la fa da sola con solo l'amministratore giudiziario, l'amministratore giudiziario è un commercialista, è un avvocato, in realtà che non può, cioè che ha ben altro da fare, nel senso che gestire e riprendere in mano tutto il bilancio di un'azienda che ha avuto dei problemi, non è semplice, ma deve creare una nuova rete, magari cambiare completamente l'indirizzo di mercato. Allora lì ci vuole l'imprenditore collettivo, cioè la collettività, il ruolo importante dei sindacati, con questi lavoratori ci si deve parlare, bisogna far comprendere a loro che cosa stanno vivendo e che loro sono fondamentali per la nuova dimensione dell'azienda, sono fondamentali perché devono comprendere, capire che tra l'altro sono fondamentali anche nella fase delle indagini, perché sono proprio le indagini che possono utilizzare i lavoratori per capire quali erano le dinamiche che c'erano precedentemente, ma anche durante il sequestro o durante la confisca, perché dall'interno possono dare comunque uno specchio dell'azienda stessa. E poi aprire un dialogo, perché sono i protagonisti poi in realtà, cioè si parla sempre di lavoro, l'importanza del lavoro, ma il lavoro sono i lavoratori, sono persone, nome e cognome che hanno comunque vissuto in quell'azienda che possono non avere responsabilità e va garantito magari una rimissione del circuito lavorativo, magari non in quell'azienda ma in un'altra azienda. La rete, la rete è comunque la soluzione reale ed effettiva, perché è importante creare una rete tra aziende, tra aziende sequestrate, aziende confiscate, è importante che ci siano comunque una disponibilità anche da parte di del manager, nel momento in cui è necessario, non è sempre necessario il manager, una buona parte delle aziende sono piccole aziende, sono bar, sono piccoli locali in quali non c'è un manager. Una disponibilità anche da parte degli enti locali per quanto riguarda anche gli artigiani che devono comunque, uno nuovo, un elenco ad esempio di artigiani che possono essere disponibili. Io parlo sempre con le missioni giudiziari, il mio master è una piattaforma eccezionale, questa fortuna di assistere a presentazioni di buone pratiche e gli amministratori dicono noi tante volte non abbiamo bisogno di manager, abbiamo bisogno di panettieri, di baristi che hanno il coraggio di venire e mettersi a disposizione per rigestire quel bar, mi sembra anche addirittura il bar del tribunale di Reggio Calabria ha avuto dei problemi perché non c'era nessuno che andava a gestirlo. Questo è l'elemento importante, è riattivare una rete ed è la rete che noi abbiamo sperimentato in fase di indagine e che è la rete che serve proprio per far funzionare queste aziende e questa rete è una rete che viene applicata, viene creata nelle buone pratiche e devo dire che anche questa indicazione è stata, e chiudo, è stata recepita anche nel progetto di riforma del codice antimafia che è partito dal progetto io riattivo lavoro però non voglio parlare perché appunto c'è chi ne parlerà meglio di me, che è stato un po' un fulcro per estendere, per arrivare alla riforma attuale che fa sua proprio questi strumenti di condivisione, di analisi dell'azienda, di possibilità di riattivazione e di rete tra le aziende come l'elemento dei fondi, un fondo di garanzia per queste aziende che in realtà hanno il sistema bancario completamente chiuso. È vero che quelle mafiose avevano il sistema mafioso ma il problema è che quando si sequestra sono le banche che chiudono i rubinetti, sono le banche che non è il sistema mafioso, è il sistema bancario istituzionale. Ieri c'era appunto l'avvocato Luca D'Amore che è adesso amministratore della cooperativa 29 giugno, ci ha fatto vedere i grafici, è impressionante, prima del sequestro e dopo il sequestro, dopo il sequestro, dopo due giorni del sequestro i rubinetti degli finanziamenti delle banche erano completamente azzerati. Come fa un amministratore a portare avanti un'azienda come la 29 giugno che ha un raggio d'azione immenso a Roma ad andare avanti? Quindi questo fondo di garanzia è veramente un strumento essenziale, peccato che non si è previsto nonostante c'è chi l'abbia proposto anche come emendamento, anche un fondo per i beni immobili. Però questo è tutto un altro problema. Scusate, ho finito. Il progetto di cui parlava la professoressa si chiama Icaro e lo potete andare a leggere tutto anche su internet, Icaro come il personaggio mitologico che voleva volare troppo in alto, però è un acronimo. Luciano Silvestri, intanto chiederei, abbiamo parlato di questo progetto riattivo il lavoro, mi sembra la persona giusta a cui chiedere come funziona e quali sono i problemi alla base. E poi le vorrei chiedere magari di inserire questo discorso in un discorso più generale che mi preoccupa molto, cioè Sicilia, Portella, la Legginestra, eccetera, c'è stata una mattanza di sindacalisti, una mattanza. Arriviamo anche a Piola Torre, insomma, personaggi della sinistra, sindacalisti della CGL oppure personaggi della Camera del Lavoro, eccetera, c'è stata una distruzione. Però nello stesso tempo questo accadeva in anni in cui la sinistra, il movimento operario, il movimento sindacale erano come sempre più forti, cioè nascevano leggi di tutela del lavoro, siamo arrivati allo statuto dei lavoratori, eccetera. In questo momento storico mi sembra che invece il movimento sindacale, in generale il movimento operaio, è sempre più debole. Quindi dobbiamo come, anche questo problema della lotta alla mafia, dobbiamo come rassegnarci a vivere in tempi in cui non, come dire, sarà sempre più debole la voce dei rappresentanti dei lavoratori. Questo come la vede? Ha toccato, diciamo, quello che io considero un paradosso, perché in realtà mentre le vicende che riguardavano, hanno riguardato quegli anni tanti sindacalisti di prima linea, sono episodi che purtroppo accadono anche adesso. Il paradosso è che non se ne accorge nessuno, o pochi, perché noi abbiamo, soprattutto al sud, tanti sindacalisti che ricevano minacce, pallottole, incendi alla alla casa, alle auto. C'è chiaramente il paradosso, perché effettivamente questa storia, soprattutto delle aziende confiscate, della lotta alla mafia, io la vedo come una questione che è scarsamente considerata nella lotta politica, nell'agenda della politica. Allora, siccome mi ha tirato per la gola, da questo punto di vista, come si dice dalle mie parti, io lo voglio fare con qualche esempio, che forse più dei ragionamenti rendano evidenti le cose. L'esempio è sul tema, sulle aziende confiscate. Allora, primo esempio, io abito in Toscana, in Toscana forse pochi lo sanno, ma c'è il bene più grande confiscato dalla mafia, è a Suvignano, in provincia di Siena, nelle splendide colline senesi, un podere di 700 ettari, chi ha un po' di mestichezza delle metrature si rende conto perfettamente di cosa sto parlando, 12 casolari, una villa patronale, un agriturismo, quel bene è stato sequestrato ormai 12 anni fa, forse di più, è stato per dieci anni in amministrazione giudiziaria, un bene straordinario, valore 30 milioni di euro. Io penso, me la cavo così, in un qualsiasi land della Germania quel bene lì sarebbe stato immesso sul mercato, reso produttivo e dato lavoro a un bel po' di persone, perché adesso quel bene ancora è lì fermo, in amministrazione giudiziaria e dal lavoro a 4-5 persone che ne fanno manutenzione. Questo è un elemento di paradosso generale che intanto introduce una questione sulla necessità di rivedere la legislazione, perché l'amministratore giudiziario per tanti anni è stato quel cappellano seminara coinvolto in tutte le vicende palermitane, con la giudice per l'asseguto. Primo esempio, poi cerco di tirare un ragionamento. Secondo esempio, recentemente è stato sequestrato a Palermo in piazza San Domenico il caffè San Domenico, la piazza centrale, pedonale. Noi lì siamo stati chiamati immediatamente, perché accade questo, poi dirò del rapporto vicende di beni sequestrati e organizzazioni sindacali. E ci siamo fatti carico di aiutare l'imprenditore collettivo, lo siamo stati un po' anche noi in quel caso, imprenditore collettivo, perché abbiamo convenuto di realizzare nel giro di uno, due, tre anni, non ricordo, non ho fatto io personalmente l'accordo, una sorta di riemersione dal lavoro nero, perché quei lavoratori erano tutti al nero. Se tu le regolarizzi immediatamente, quel bar chiude, chiaramente. Quindi non è vero che, come mi sono sentito a volte dire in qualche dibattito da qualche autorevole rappresentante dello Stato, ma il sindacato dove era prima del sequestro? Dove era? In quell'azienda mafiosa il sindacato non c'entra, non ti ci fanno entrare e poi dirò qualcosa a questo proposito. Quando arriva si ne fa carico e se ne deve far carico, ognuno deve fare un pezzo per sostenere, perché la riconquista della legalità ha un costo e in qualche misura tutti devono farsi carico di questo costo. Il problema è che mancano i soggetti che di questo costo dovrebbero farsene carico davvero, le banche. Ma le banche sono completamente avulse da un richiamo alla propria responsabilità. Ma per quale ragione? In tempi passati hai concesso quel prestito senza preoccuparti minimamente a chi lo prestavi. Quando mio figlio va a chiedere un prestito per prendere casa perché vuole andare a convivere su dalle sette camicie per poter dimostrare che può onorare quel prestito. Ci sono degli aspetti che il cambio di regolamento, di norme deve preoccuparsi di riassumere. E le banche sono uno di questi soggetti che deve essere richiamato in causa per le proprie responsabilità. È assurdo che, come si diceva, un secondo dopo sia proprio quella banca che ha prestato con tanta facilità quel denaro bussi alla porta dell'azienda confiscata per il rientro dal debito. Qui, insomma, se tutti devono sostenere un processo, prima di tutto questo soggetto. Terzo esempio, mafia capitale. Noi siamo di fronte ad un fenomeno a Roma che al di là delle cooperative note, arcinote, ha coinvolto in questa vicenda oltre 5.000 lavoratori. perché poi c'era il subappalto, c'era il fornitore, c'era... beh, devo dire che in questa fase dei sequestri, di questo patrimonio produttivo, non ci sono stati né morti né feriti dal punto di vista dei lavoratori. Anzi, in qualche caso si sono perfino incrementate le occupazioni. perché, è no, è chiaro, se io prendo l'appalto a quei prezzi per poi poter pagare la tangente, dove risparmio? Sulla mano d'opera, sul costo della mano d'opera, ma anche sull'occupazione. In qualche caso il Tribunale si è reso conto che forse si poteva aumentare l'occupazione. Perché non sono accaduti morti e feriti? Perché, devo dire, abbiamo fatto un protocollo con il Tribunale di Roma, grazie alla soggettività, in questo caso, del suo Presidente, che ha capito che soltanto da una collaborazione fra i soggetti coinvolti, le organizzazioni sindacali, l'Union Camere, le rappresentanze di impresa. Potevamo tentare di non fare morti e feriti, ma questo è un caso. Tant'è che stiamo cercando, come anche qui a Bologna e in Emilia, di realizzare le stesse modalità di gestione dei beni confiscati con altre tanti tribunali. Bisogna fare in fretta però, perché questo fenomeno di cui parliamo è in crescita esponenziale, ormai ovunque, sono passati molti anni dalla calcestruzzo vicina, adesso c'è di tutto, in tutti i settori e di tutte le dimensioni. Ma voi pensate, quarto esempio, nel 2013 è stato sequestrato al prestanome di Matteo Messina Danaro, Talnicastri, tutta la produzione dell'eolico. L'eolico è Sicilia, Calabria, Alto Lazio. Sapete quanto vale quel sequestro? Un miliardo e trecento milioni di euro. A chi lo diamo in gestione? A un amministratore giudiziario? E qui c'è un punto rispetto al quale ormai la legge va cambiata. Non basta più soltanto l'albo degli amministratori giudiziari che giustamente non possano essere come lo sono stati e come lo sono ancora soltanto dei commercialisti che hanno la cultura dell'amministratore fallimentare. Se tu gestisci un'azienda devi soprattutto avere una cultura da manager, cioè la devi rimettere sul mercato, devi ricostruire una filiera, perché non c'è solo il problema delle banche, c'è il problema che tu ti devi ricostruire clienti, fornitori, perché il sistema mafioso aveva i suoi e probabilmente quelli se ne vanno, anzi sono i primi a fuggire, rimani solo tu a dover ricostruire questa cosa. E voglio fare questa precisazione della differenza fra sequestro di primo grado e confisca definitiva. Il problema è intervenire nel sequestro di primo grado, perché poiché tutto l'iter processuale dura mediamente otto anni, tu non puoi intervenire dopo otto anni, è finita la storia. Devi avere la forza di intervenire subito, in quel preciso momento e ricostruire le possibilità e le opportunità. Quinto esempio, il centro commerciale Olimpo a Palermo, un esempio virtuoso, perché lì i lavoratori hanno deciso di costruire una cooperativa che ha preso in gestione quel centro commerciale. sta andando bene, incrociamo le dita, ormai da anni, perché poi devi fare conti quando fai questa cosa con la mafia che mica sopporta tanto volentieri e bene l'idea che quel bene che prima gestiva lo ha preso qualche altro e dà dimostrazione che si può fare in un altro modo che non quello mafioso. E quindi fa di tutto, non solo ti toglie l'acqua, ma a volte ti incendia, a volte come è successo a Corleone, alla cooperativa lavoro e non solo, che è un crociato nel lontano 2004, dove all'inizio ha avuto le viti tagliate, ha avuto la produzione di altri prodotti agricoli bruciati. Quindi la reazione della mafia è violenta, perché e finisco questa parte e poi accenno rapidamente alla questione di io riattivo il lavoro, perché dobbiamo aver presente che la mafia agisce prima di tutto perché ha un interesse economico e l'intuizione di Pio Latorre è chiara a tutti, cioè bisogna intervenire per togliere quel potere economico, perché è quello soprattutto che interessa la mafia. E poi però esercita questo potere attraverso il controllo sociale del territorio. Dal lavoro si sostituisce allo Stato, organizza una rete di consenso. Allora il problema è come tu metti insieme lo Stato, la società civile, le forze sane per contrapporre a quel controllo sociale un altro controllo sociale. Questa è la scommessa, altrimenti non vinciamo. Questo è il punto vero e io riattivo il lavoro accercato nel 2012, ormai sono tanti anni, raccogliendo le firme per una legge di iniziativa popolare, come dire, di scuotere l'albero che era fermo, non dava più frutti, non c'era più un dibattito, una discussione che fosse all'altezza. Tutte queste cose che ho cercato di raccontare con degli esempi sono in qualche misura contenute in quella prima proposta di iniziativa popolare. Dico prima perché poi si sa, purtroppo, noi l'abbiamo fatto con spirito di servizio, soprattutto, anche perché cominciavamo ad essere tirati per la giacchetta da tanti lavoratori che appunto, come dicevi tu, ci venivano a dire, ma quando c'era la mafia lavoravamo, arriva lo Stato e non si lavora più, ce ne si è affatti carico. Abbiamo cercato di capire quali erano i punti deboli, quindi il tema degli amministratori, il tema dei crediti, il tema dell'imprenditore collettivo, insomma tutti questi aspetti che sono emersi negli esempi che ho fatto. Abbiamo cercato di proporli nella legge, poi si sa la politica, anche lei, non soffre molto il protagonismo degli altri e noi non avevamo chiaramente questo spirito. E allora c'è stata una proposta di legge parlamentare, una seconda legge di proposta parlamentare, la discussione si è allargata a tutto il sistema del codice antimafia. In ogni caso quella legge che riforma il codice antimafia, quindi una legge che è diventata molto più grande, è passata in prima lettura alla Camera, è al Senato ma io temo che sia su un binario morto e bisognerà riprendere un'iniziativa politica purtroppo, mi dispiace dirlo, in maniera tale che quella discussione al Senato si concluda rapidamente e dia a questa problematica che è un problema enorme del Paese, perché se il Paese non riconquista traiettorie di legalità non ce la fa a ricostruire il proprio futuro e questo è uno dei temi trasversali enorme che ci consegna una responsabilità perché sono temi di natura lavorativa, occupazionale, economica dal quale il Paese può ripartire. Questo è un po' il senso della traiettoria, del percorso che abbiamo cercato di fare, naturalmente ci sarebbero tanti altri aspetti sui quali sarebbe interessante ragionare, però colgo l'occasione di questo evento perché con avviso pubblico peraltro collaboriamo già da molti anni in questo vicenda, per accenno soltanto alla questione dei beni materiali, le case, le abitazioni, i beni immobili, perché qui c'è un altro problema, l'assegnatario diventa il comune, ma con questa situazione di regole e di decremento delle risorse che arrivano con la legge di stabilità ai comuni. Guardate, non è semplice immettere un patrimonio enorme che abbiamo, pensiamo a Palermo dove quel patrimonio se ristrutturato potrebbe risolvere in gran parte tutto il problema abitativo e sociale, ma non ce la facciamo, non ce la si fa perché non c'è nessuna traiettoria che sostenga quell'investimento per rimettere sul mercato e per sostenere bisogni immensi che ci sono anche da un punto di vista abitativo. La legge in qualche modo cerca di farsi carico anche di queste problematiche, ma ripeto è ancora ferma. Mi sembrano tutte cose molto interessanti, ora abbiamo qui un magistrato, Andrea Tarondo, è sostituto procuratore a Trapani, gli chiederei magari prima di tutto di illustrarci la vicenda del re dell'eolico o qualche altro caso che la vicenda del cosiddetto re dell'eolico, la Nicastri eccetera, oppure qualche altro caso di sua conoscenza di intervento, procedimento di misure di prevenzione, il caso concreto di applicazione che ha dato magari buoni risultati, cattivi risultati eccetera e che sia abbastanza impressionante per dimensioni. Vi dico solo una cosa, qui siamo in Emilia, c'è sempre anche l'equivoco che quando si parla di mafia si parla di cose lontane che riguardano gli abitanti di Locri o di Corleone, in questo momento è commissariata, l'ente Fiera Milano ha avuto una sua controllata al 100% che è stata commissariata perché controllata da prestanomi, perché praticamente faceva eccessivi favori a una società che era assolutamente mafiosa, gli ambeccati che portavano i soldi in nero in macchina in Sicilia al capo mafia e hanno fermato un avvocato tra l'altro, cosa divertente, gli hanno detto ma scusi lei cosa ci fa con 390 mila euro in macchina nel baule? Avevano già le intercettazioni che erano il nero dell'impresa mafiosa che veniva portato al capo mafia e lui si è difeso dicendo che erano le sue oneste percelle di avvocato incassate in nero, quindi l'alibi dell'avvocato era il nero, chiaro? Fantastico, Presidente della Camera Penale di Caltanisseta mi pare che fosse, o allora è stato da poco, questo tanto per dire che adesso siamo arrivati, visto che dopo l'intervento dell'antimafia non è cambiato niente, a questo punto direttamente c'è il settore allestimenti dell'ente Fiera di Milano, quindi la più importante Fiera italiana come bilanci eccetera, una delle più importanti società pubbliche della mitica Lombardia locomotiva dell'azienda Italia che in questo momento è sotto commissariamento perché facevano troppi favori a Cosa Nostra, chiaro? Tra l'altro adesso la dico tutta perché insomma sono dell'espresso, siamo famosi per non mandarle a dire, l'ente Fiera di Milano è storicamente un feudo di CL, io continuo a schifarmi di quanto sono criminali alcuni dei dirigenti, cioè c'è una base cevilina, bravi cristiani, famiglie per bene eccetera eccetera, ma la dirigenza di CL sembra un braccio del lucciardone, cioè ce ne sono pochi rimasti a piede libero e la loro azienda in cui nominano tutti i consiglieri in amministrazione da una vita che dovrebbe essere gente che ha nel cuore qualcosa di più che semplicemente la legalità dovrebbero avere nel cuore addirittura i valori cristiani, questi qua facevano i favori a Cosa Nostra, è una cosa vergognosa e sono al governo come è noto, sono una stampella del governo attuale, va bene scusate mi sono un po' sbraccato, sottolineo anche così per gettarci un po' di fanghetto addosso che i messaggi tra me e avviso pubblico in questo momento avvenivano come avete potuto vedere tramite pizzini, tanto per restare, c'erano piccoli pizzini, quindi chiederei qualche esempio positivo e poi le dico subito che le farò una domanda anche nella sua qualità di imputato come vorrei parlare anche dei cattivi insegnamenti che arrivano da Palermo. Grazie, devo dire che è stata una mattinata interessantissima, dal primo all'ultimo di questi interventi sono stati per me e credo per tutti un arricchimento importante perché stiamo parlando di un tema delicatissimo, fondamentale su cui credo si giochi la credibilità dello Stato nella lotta alla mafia e si giocano anche per molti aspetti alcune questioni importanti che riguardano questo mercato, ci sono le aziende che operano fuori mercato, c'è il mercato che reagisce estrito dall'azienda appena viene sequestrata e c'è da chiedersi ma come funziona questo mercato, che cosa succede in realtà nel mercato dove poi tutte le aziende si muovono e operano. Cerco di essere sintetico e breve, le cose sono molto interessanti, fino anche alla questione degli esempi come amministriamo l'eolico. Questa settimana abbiamo fatto un'udienza al Tribunale di Trapani per discutere del piano aziendale di una azienda per capire, ci siamo messi il Tribunale, il Pubblico Ministero e anche i consulenti del mafioso di turno per capire come partecipare all'asta per l'assegnazione dei megawatt in tutta la Sicilia che c'è in questi momenti. Quindi situazioni, devo dire, veramente di sfida. Però vorrei partire da un punto che sarà la mia conclusione e ve lo dico subito. L'amministrazione dei beni confiscati alla mafia, quindi la parte successiva al sequestro, la confisca così, è ancora lotta alla mafia. E non ce lo dobbiamo mai dimenticare. Non è che i magistrati, i tribunali hanno confiscato e adesso è solo un problema economico, come fare a stare in piedi questa cosa. Perché le aziende confiscate che funzionano, e c'è l'esempio della calcestruzzi ricina e ne riparlerò, è giustissimo quello che diceva, non sono più quei tempi della fine degli anni 90 in cui c'era un impianto di calcestruzzi. Adesso stiamo parlando di un miliardo e 300 milioni, stiamo parlando che solo nella provincia di Trapani sono stati sequestrati quasi 4 miliardi di valore di aziende, sono cifre incredibili e che vi fanno capire che impatto può avere questo tipo di forza economica che ha la mafia nei confronti del territorio e vi fa capire, che bisogna tenere presente un altro dato, che questa è solo la punta dell'iceberg, quello che abbiamo scoperto. E come dimostrano i furti, le rapine e anche i reati più banali, quello che scopri è sempre una piccola frazione di quello che è la realtà. Quindi stiamo parlando di qualcosa che riguarda tutti e riguarda chiaramente tutto il territorio nazionale, tutto il territorio europeo, perché oggi le distanze si sono accorciate in questa nostra società, la polizia tedesca viene in Sicilia a capire gli omicidi che avvengono in Germania, perché è lì la radice e i contatti ci sono sia sul piano meramente criminale che ovviamente su quello economico. Quindi il punto fondamentale, e cercherò di spiegare perché, si deve continuare a ragionare sempre in questi termini, cioè comunque che la presenza di un'azienda che funziona sul territorio è una bandiera della legalità. Io faccio pochissimi esempi. Uno è questo, qualche tempo nel settore del calcestruzzo, il più piccolo e poi lo andiamo a vedere anche nei settori economici più importanti. Un imprenditore pochi anni fa voleva costruire, realizzare un'opera, case credo, un'opera edilizia, in un comune della provincia di Trabani, è andato dalla polizia, aveva gli amici e dice ditemi dove devo andare a comprare il calcestruzzo in questo comune perché non voglio andare dai mafiosi. La polizia gli ha risposto vai dove vuoi, sono tutti mafiosi. Va bene? Questa è la situazione. In quel comune non avevamo, Castelvetrano, non avevamo ancora fatto dei sequestri e confisci che nonostante nella provincia di Trabani abbiamo perso il conto, le ultime 13 imprese nel settore del calcestruzzo ma sono molte di più contando quelle che sono fallite in passato. Quindi la presenza di un'impresa che funziona e che è possibile amministrare con una cooperativa di lavoro, eccetera, è l'alternativa di legalità in un territorio dove altrimenti non hai alternativa di legalità. Quindi questo è fondamentale al di là di quello che rende, non rende, funziona, non funziona perché sono situazioni che funzionano. Ora, il ragionamento che io farei è questo, cioè noi diciamo e abbiamo detto giustamente ma l'impresa prima di essere sequestrata e confiscata non ha i costi del lavoro, almeno c'è un costo in nero, sicurezza sul lavoro, opera spesso in regime fiscale in nero, fatture false, si scarica i costi, eccetera, il problema dei rifiuti lo bypassa. C'è una serie di elementi che chiaramente consentono all'impresa di prosperare, impresa mafiosa, arriva il sequestro e ci troviamo i controlli, gli amministratori che si trovano nella situazione, ho visto villaggio turistico, non aveva gli scarichi, abusi edilizi, situazioni di lavoro compromesse, però se lo chiudi fallisce subito perché chiaramente hai le spese e quindi l'amministratore che fa la conferenza di servizi alla prefettura per cercare di dire vabbè stiamo mettendo a posto tutto proviamo a proseguire, questo è l'unico modo per funzionare. Cosa succede allora quindi in questo mercato? Che è un mercato dominato dalla corruzione, perché tutti questi fenomeni alla fine fanno capo al fenomeno della corruptela che è poi quella zona che sta all'esterno della mafia, che ha un peso autonomo, a volte è direttamente legata alla mafia, a volte c'è un rapporto simbiotico eccetera, ma che caratterizza il nostro mercato e se non riusciamo ad affrontare il tema, perché non vengono a fare il controllo in tema di rifiuti, in tema di scarichi, in tema fiscale, in tema di... perché c'è, perché la mafia è in grado di inibire questo sistema e questo sistema di corruptela per esempio è quello che è dietro al miliardo e 300 milioni dell'eolico di un imprenditore che è partito nel 99 che vendeva condizionatori d'aria ad Alcamo, condizionatori d'aria, finiva a installare i condizionatori e dopo dieci anni ha un miliardo e 300 milioni di patrimonio, perché? Perché tu impresa, grande impresa straniera nel settore dell'energia che vuoi venire a fare, prima l'impianto eolico, adesso sono un po' desueti, si è andati al fotovoltaico, in Sicilia autorizzazioni, cose, vendita del terreno eccetera, non ne venivi fuori, io ho visto una volta in un'udienza sempre un imprenditore danese che si era quasi messo a piangere e dice ho provato a rompere con questi e mi hanno messo in ginocchio finanziariamente con le banche danesi che mi hanno dato tre mesi per l'investimento, se no vanno a monti milioni di euro di investimento, tu mafia riesci a controllare quindi questo sistema che so che è quello delle autorizzazioni, che poi tutte le cose vadano, che il tuo investimento prosegue e quindi vendo poi la società chiave in mano autorizzata a costruire 35 paleoliche finanziate, che io l'ho vista in udienza, c'era il progetto con le 35 paleoliche che sbattevano le pale una con l'altra, ce le avevano messe talmente vicine che si scontravano, dice ingegnere ma come hanno fatto a finanziare, autorizzare questa cosa? Autorizzata, il parco eolico con le pale che sbattevano una con l'altra, poi ovviamente l'hanno spostato dove avevano pensato all'inizio, le hanno allargate e le hanno realizzate. Vendono quindi, guadagnano e vendono il prezzo della corruzione, del fatto che tu non ce la riesci e io riesco a realizzare questo e quindi passi da me per creare questo, in questo settore come in tutti gli altri settori in cui mano a mano ci si può andare a indirizzare. Allora qui sta il vero problema e qui, e questo è un tema che non possiamo affrontare oggi ma dell'inadeguatezza del nostro sistema a colpire questo tipo di fenomeni che caratterizza tutto il paese ed è il sistema con cui la mafia è passata da un controllo del territorio soltanto violento che è il primo livello ed è, comporta un'aggressione più grave come quella che ha subito il dottor Lantocci che è gravissima, ma la mafia funziona ancora meglio quando non ha bisogno di arrivare alla violenza, quando al posto suo, al posto di Lantocci c'è uno che si prende la sua fetta di torta e funziona tutto bene, non ci spara nessuno, non ci sono i titoli sui giornali eccetera. Questo è Matteo Messina Denaro. Matteo Messina Denaro, attualmente probabilmente il boss più importante di tutta cosa nostra che abbiamo nella provincia di Trapani, ha a suo carico non soltanto la collaborazione alle stragi in tutta Italia, Roma, Milano, Firenze e un piccolo cimitero che ha provveduto a realizzare personalmente sparando, quindi ha la violenza nel suo DNA, ma non fa più omicidi, li riduce al minimo, perché questo non serve agli interessi della mafia in questo momento, è l'extrema razio, se spari per le strade in continuazione il ministro dell'interno te la deve mandare più polizia, più magistrati eccetera, se il meccanismo funziona senza bisogno di arrivare alla violenza o lasciarla all'extrema razio ecco che hai il sistema in cui si è evoluta la mafia attuale, un sistema dove il controllo economico del territorio, il controllo attraverso anche il sistema della corruttela, è quello che funziona meglio, bisogna che al posto di Antocci ci sia un corrotto e allora funziona, non so come ci è arrivato lei lì, perché il sistema della corruzione, ricordiamocelo, è un sistema molto evoluto che va a incidere sulle carriere, quello è l'aspetto fondamentale, va a incidere sulle carriere e ormai il corrotto che viene preso, la mela marza su cui poi tutti poi si possono lavare la coscienza, è ormai come lo spacciatore che sta all'angolo della strada che viene arrestato e l'organizzazione può accettare l'arresto di una mela marza e si fa un po' di galera e poi lo aiutiamo, lo spaccio, quindi il nostro meccanismo attraverso il quale ogni tanto qualche successo a livello di corruzione ce l'abbiamo non va a incidere il sistema perché non incide su un sistema delle carriere e noi dobbiamo tenere presente che la gestione dei beni confiscati dalla mafia è pubblica amministrazione e come tale soggetta a questo attacco massiccio per cui ne vedremo delle belle in futuro se non mettiamo mano, se non corriamo ai ripari e il problema fondamentale purtroppo e non si risolve se non con un sistema che diventa virtuoso è mettere le persone giuste al posto giusto e non i corrotti che fanno carriere o quelli che vengono messi in quel posto per garantire il sistema della corruzione perché purtroppo è questo, è un sistema molto più complesso che aggredire il singolo elemento di corruzione perché un uomo al posto giusto cambia tutto e l'abbiamo visto e lo vediamo. Il prefetto di Trapani Sodano che si è messo a capire perché fino a quel momento i beni della mafia rimanevano nelle mani dei mafiosi ha cambiato tutto però poi è stato cacciato via da Trapani e quindi questo ci fa capire come la competizione, il problema si trovi a un livello altissimo, si giochi a un livello altissimo anche dei livelli dell'amministrazione e della politica, livelli in cui la mafia interloquisce spesso attraverso la massoneria deviata che è uno sport tipico nelle zone dove lavoro io, si rapporta col potere politico e riesce a ottenere risultati in termini concreti. Ora da un punto di vista della gestione dei beni confiscati, è tardi, cerco di ridurre il più possibile quello che volevo dire, la magistratura fa parte di questo sistema e purtroppo in certi casi, in questo caso, è chiaramente venuta meno al proprio dovere, è in corso di accertamento ma stiamo parlando di un sistema che era sotto gli occhi di tutti. Come è sotto gli occhi di tutti che oggi ci sono tutta una serie di situazioni che riguardano la gestione di beni confiscati anche nella provincia di Trapani che vedo io, gravissima, in cui le scelte che vengono fatte sono sbagliate, spesso fanno sì che i beni vengano affittati, vengano venduti a mafiosi, di nuovo, questa è la situazione in cui ci troviamo davanti, sempre perché non ci sono le persone giuste al posto giusto. Ultimo esempio, la calcestruzzericina è un esempio vecchio che conoscono tutti, eccetera. La calcestruzzericina sta tentando di costituire il nucleo di una nuova idea di amministrazione dei beni confiscati che è quella di mettere le aziende in rete, in consorzio, perché soltanto aiutandosi con le competenze, con il capire il territorio e lottare contro i tentativi di infiltrazione che sono la regola, cioè il giorno che noi confischiamo la mafia comincia a pensare a come riconquistare quel bene mafioso, a come fare in modo comunque di continuare a guadagnarci con le commesse, eccetera, di come arrivare all'amministratore giudiziario, di come arrivare... Questo tentativo è stato quello di creare un consorzio ed è un esempio che secondo me potrebbe funzionare per tutti gli altri settori merceologici. Cioè il concetto è, abbiamo tante imprese che operano nello stesso settore, quella che viene sequestrata e che da sola, come giustamente si diceva prima, non riesce a reggere il mercato, facciamo in modo che trovi un contesto che la possa accogliere, che insegni come fare ai lavoratori a creare una cooperativa, che la inserisca in un circuito virtuoso. Abbiamo 13 imprese nel settore del calcestruzzo, nella provincia di Trapani, alcune fallite con i mezzi che arrugginiscono. Facciamo un consorzio, creiamo un centro che tiene per esempio i mezzi più importanti e costosi a disposizione di tutti quanti, abbiamo la società che produce il calcestruzzo, abbiamo la cava, li mettiamo insieme e reggono il mercato. Ora noi troviamo il più grosso ostacolo per andare avanti su questa cosa nell'agenzia dei beni confiscati, che non abbiamo nominato fino adesso, ma vi dico soltanto questo, solo in sintesi, che se in passato erano gli interventi mafiosi eccetera che stritolavano o tentavano di stritolare la calcestruzza, oggi non vorrei che queste imprese che tentano di avere idee nuove vengano stritolate dalla burocrazia o dal fatto che magari c'è anche un problema proprio anche di strutture, di essere in grado con pochissime unità, di fare fronte a scelte che sono ovviamente di moltissime imprese, ma questo è l'unico modo, mettere in rete e trovare soluzioni nuove di collaborazione, contatti. Io sono del parere che sia necessario sempre che l'impresa trovi a livello di province dei nuclei, a livello di prefetture in cui si mettono insieme le competenze in cui l'amministratore riferisce, in cui la polizia è in grado di dire attenti a questo settore, c'è questo tentativo di infiltrazione in cui si scambiano le conoscenze in modo tra virgolette interdisciplinare, altrimenti non si può reggere il tentativo mafioso di infiltrazione, ma soprattutto bisogna implementare questi nuovi sistemi di gestione, perché sono gli unici che possono funzionare, altrimenti le aziende stanno fallendo tutte. un disastro, un disastro a livello anche sociale. Io vedo l'unico modo, ho visto l'altro giorno il salvataggio di questo villaggio turistico, come abbiamo un'altra società confiscata dove c'è un albergo, i lavoratori, naturalmente deve aver avuto il tempo di vedere che hai cacciato tutti i mafiosi, perché altrimenti non lo puoi fare, ma la società che già da un po' che lavora dove i mafiosi sono stati calciati, ha fatto una cooperativa e ha gestito, l'altro ha affittato i beni di quella che abbiamo appena sequestrato, perché quelli sappiamo chi sono, sappiamo che sono in grado di farlo, hanno il know-how nel settore alberghiero, perché altrimenti non ci puoi mettere quelli della calcestruzia. Ed è solo questo il sistema che funziona, un'azienda che aiuta l'altro in una logica di rete che deve essere aiutata da chi prende le decisioni e in questo caso deve essere, il passaggio necessario è la sburocratizzazione anche delle procedure o comunque della mentalità che deriva anche dalla gestione dell'azienda per i beni confiscati, problemi che noi abbiamo rappresentato, io come quelli della calcestruzia e gina alla commissione antimafia, cioè è un problema fondamentale e sono esperienze che possono essere portate anche altrove. Tenendo presente che se non ragioniamo in modo nuovo, se non troviamo soluzioni nuove come quelle che sta studiando la professoressa Pellegrini a Bologna, che è un apporto fondamentale, se non ci inventiamo qualcosa di nuovo andiamo verso un disastro che è un disastro economico, è un disastro di spazio che viene lasciato dalla mafia ed è un disastro di immagine, perché la gente di fronte a questo fallimento o di fronte a dei disastri gestionali come quelli del Tribunale di Palermo, la gente dice va bene era meglio la mafia, questo non lo dobbiamo fare, abbiamo però un problema, capire qual è questo lago in cui nuotano queste imprese, capire come mai c'è questo fenomeno delle imprese mafiose che prosperano in un sistema che non fa controlli e capire quindi che caratteristiche ha questo mercato, questo è un tema, cioè con le aziende confiscate siamo riusciti a far emergere un fatto che riguarda l'intero mercato, un problema che ci dobbiamo porre al di là del problema mafioso perché sono vizi di un mercato di cui la mafia profiterà a sud come a nord, in Sicilia 4 miliardi sequestrati in una piccola provincia come Trapani significa che la mafia ha un potere economico enorme, questo arriva, sta arrivando al nord e arriverà al nord se non è già arrivato e ancora non l'abbiamo visto, questo è il tema su cui investigare, su cui interrogarci che è un tema che è legato alla criminalità organizzata e va oltre e dobbiamo stare attenti che il tema della corruzione diventerà un tema anche di interesse nel settore della gestione dei beni confiscati. Grazie. Mi sembra molto bella questa idea della corruzione quasi come premessa ambientale, come sistema ambientale all'interno del quale prospera la mafia. Tanto avevo intervistato un economista che diceva proprio che analizzando mafia di tutto il mondo diceva che ci sono casi in cui c'è corruzione senza mafia, vedi Tangentopoli, ma senza un sostrato di corruzione non c'è l'organizzazione mafiosa, consideravo quasi una premessa tecnica. Direi che con questo siamo saliti molto in alto, mi è arrivato un pizzino, un studio provenzano che dice che ormai sono le 13 e dobbiamo chiudere, io ho pronto, ovviamente 50 domande cattivissime però adesso devo rinunciare a farle e ci scriveremo magari e vorrei invitare tutti come dire a restare in rete, a continuare a vedere cosa combina viso pubblico, cosa fa ognuno di noi cercando di restare come in rete, cercando di restare non da soli ma all'interno di un movimento come si diceva una volta. Bene.